buona visione buona visione la gente lo chiama in molti modi ma io lo chiamo casa vivo qui da una vita sai mi stupisce ancora quanto sia bello forse è il motivo che ci ha impedito di capire cosa accadeva tu non capisci nessuno ha preso questa gente sul serio erano diversi religiosi militanti insomma erano una cazzo di sé il collasso è alle porte figli miei hanno iniziato a comprare tutte le fattorie poi la stazione radio nel giro di poco si erano comprati la fottuta polizia il loro stato sovrano e religioso edificato qui in mezzo a noi nessuno verrà ad aiutarci il governo non serve a niente noi siamo soli di dio e salvare quelle anime perdute che lo vogliano o no la gente non vuole credere che questi gruppi esistono hanno tutti paura capisci alcuni vorranno farci del male altri vorranno distruggere ciò che abbiamo costruito insieme altri ancora ci tradiranno non sappiamo di cosa sia capace chi è il loro capo joseph sid lo chiamano il padre e la gente del mondo esterno è cieca non vuole credere non ha fede ma con me la vedrà novellino novellino per di tempo qui il cellulare non prende sto attraversando l'endain cazzo eccolo pazzo maledetto cristo siamo ufficialmente nel paese degli edeniti cambiare idea divertire e tornare a casa mi suggerisci di ignorare un mandato federale no signore abbiamo bisogno di capire la realtà di questa situazione joseph sid è un uomo con cui non si scherza ci siamo già scontrati con lui e non sempre ne siamo usciti bene sai a volte a volte certe cose è meglio lasciarle stare sì beh c'è un motivo se abbiamo delle leggi e joseph sid sta per scoprirlo pratt apre una linea con la centrale ricevuto white horse a centrale basso in ascolto world ci avviciniamo al complesso nancy basso roger sceriffo siete ancora intenzionati a farlo basso purtroppo sì stiamo ancora cercando di far ragionare il nostro amico federale basso roger passo e chiudo dovevamo portarci nancy invece di questa recluta gli edeniti non l'avrebbero toccata rat perché li chiamate edeniti? dal progetto dell'edens gate eden edeniti è così che li chiamano qui anni fa quando hanno iniziato sembravano innocui ma ora sono armati fino ai denti non vedono l'ora di combattere hai paura sceriffo ci siamo il complesso è qua sotto oh mio dio è una pessima idea siamo proprio sicuri berg forza andiamo atterriamo pat ricevuto centrale ci siete ancora? sì in ascolto sceriffo se non avete notizie entro 15 minuti mandateci tutti anche la guardia nazionale se serve posso? sì signore pregherò per voi ascoltate tre regole stiamo vicini tenete le armi nella fondina e fate parlare me capito? chiaro novellino ok ci siamo occhio aperto forza andiamo sarà nella chiesa state vicini occhio aperto questi si spaventano facilmente ehi con me ma è azzonzo eh? cosa ci fanno qui? calmi state tutti calmi pensate ai fatti vostri questo non mi riguarda lo sceriffo non mi piace per niente va tutto bene azzon va tutto bene che cazzo ce li avete i distintivi no? sì da queste parti i distintivi non sono molto rispetto rispetteranno una nuova emittima non si risolvono tutti i problemi con una pallotta se lo facciamo lo facciamo a modo mio piano con calma capito? ok alzan alla porta coprici le spalle non fare entrare nessuno novellino con me e tu non non fare niente di stupido cerca di rilassarti domani ci sarà il tuo nome sui giornali andrà bene qualcosa si avvicina io lo sento e voi ci avviciniamo verso l'orlo del barato e ci sarà il giorno del giudizio ecco perché è nato il progetto perché noi sappiamo cosa succederà arriveranno arriveranno proveranno a derubarci e a toglierci le armi la nostra libertà la nostra fede però noi non lo permetteremo mai non permetteremo che la loro avarizia che l'immoralità e la depravazione ci facciano del male adesso basta sofferenze no fa culo joseph sid ho un mandato di cattura per il tuo arresto con l'accusa di rapimento con intenzioni violette quindi ora vieni avanti e tieni le mani ben in alto sono qui le locuste nel giardino sono venute per me loro vogliono portarmi via da voi vogliono distruggere quello che abbiamo costruito fermo fermo non toccare l'arma di servizio resta fermo non toccarla fermo tenete giù le armi tagliamoci tutti ora è giunto il momento ma ci siamo preparati su su Dio non lascerà che mi prendano quando l'agnello sciolse il primo sigillo vidi e udii come fragore di tuono una delle quattro bestie che diceva vieni a vedere un passo ava ed ecco che finalmente lui mi apparve era un bianco destriero e portava con sé l'inferno ehi tu ammanetta questo idiota Dio non lascerà che mi prendiate forza mettigli le manette a volte la cosa migliore da fare è andarsene via andiamo andiamo dobbiamo andarcene da qui Berg va avanti andiamo a destra ok non lo permetteremo mani sul sentiero indietro indietro ehi stacci dietro sono uno sceriffo federale vi ordino di stare indietro ma che stai non so lasciatela vuole le armi vuole le norme andiamo 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 muovetevi cazzo andiamo 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 guardaci fuori portaci via guardaci guardaci Cristo ti ricevi SILENZIO, Cazzo! SILENZIO, Cazzo! SILENZIO, Cazzo! SILENZIO, Cazzo! Devo capire cosa sta succedendo! Centrale! Oh, mio Dio! Qui va tutto benissimo. Non serve chiamare nessuno. Sì, padre, sia l'ode a te. Nessuno verrà a salvarti. Dio ti ha tenuto all'ombra della sua ala. Tutto sta andando secondo il piano di via. Sono ancora qui con voi. Il primo sigillo è stato infrattato. Il collasso è cominciato. Prenderemo ciò che ci serve. Dipenderemo ciò che abbiamo. e uccideremo chiunque si metta sulla nostra strada. E loro, i messaggeri dell'Apocalisse, vedranno la verità. Dobbiamo darcene. omm? Che inizio la mia editura! Vabbaccia! 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 Non ballate, ragazzo! Non salvare! No, no! che bruttino è la volontà di Dio è la punizione è la punizione L'ho trovato, l'ho trovato medio L'hanno teso un'imboscata, è morto Dobbiamo trovare queste... Forza, non possiamo perderlo Pronto, qualcuno mi sente? Pronto, sono voi Credo di aver trovato delle tracce! Forse li ho seminati Vedo... Io l'ho potente, come proteggerlo Finché avremo fede nel piano Provo a entrare Se c'è ancora qualcuno, ascoltate Se qualcuno è ancora vivo Guardate, guardate, guardate! Guardate! Oh Cristo Dio, sei tu. Mi dispiace, credevo che ti avessero. Avanti, avanti. Su, vieni. Controlla la stanza. Oh Cristo, non ne avevo idea. Fanculo. La sbattiamo dentro questa famiglia. Uno per uno. Sono pazzi come cavalli. Ne usciremo vivi. Per prima cosa, dobbiamo armarci. Tieni. Va bene. Faremo così. C'è una strada là fuori. La imbocchiamo e andiamo verso nord-est. Ci vorrà qualche ora per arrivare a misura. E poi ce ne torniamo qui con la cazzo di guardia nazionale. E facciamo fuori il resto di... Guardate dentro le... Ok? Shhh. E' lì dentro! E' fuori la torre! Avanti! Ho visto! Guarda! Venti dentro la ruota! Vento! Venti dentro la ruota! Per la gloria del padre, sporifichiamo i spettatori! Per la gloria del padre, sporifichiamo i spettatori! Per la gloria del padre, sporifichiamo i spettatori, sporifichiamo i spettatori! Per la gloria del padre, sporifichiamo i spettatori, sporifichiamo i spettatori! Per la gloria del padre, 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 sporifichiamo i spettatori! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciò che vi ho detto si è avverato. Le autorità che hanno provato a portarmi via sono nel caldo a braccio della mia famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Marciarimo Versan. Hai capito cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le strade sono chiuse. Vuol dire che ci hanno tagliato il telefono. Vuol dire che non arrivano e non escono comunicazioni dalla valle. Ma soprattutto che siamo fottuti. Lo stupido collasso. Pensano tutti che il mondo stia per finire ora. Lo aspettavano da anni. Aspettavano che qualcuno confermasse la profezia per scatenare una guerra santa. direi che li hai scatenati. La cosa più furba da parte mia sarebbe consegnarti. Cazzo. Togliti quell'uniforme. Dobbiamo bruciarla. Lì c'è un cambio di vestiti. Cambiati e poi torna pure da me. Forse possiamo rastoppare la situazione. Cambiati e poi torna pure da me. 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 Cambiati e poi faccia le pari... ... ... Qualcuno mi sente? Sono Dan, sono... sono Dan! Ho detto, sono... Pronto! Non mi sono presentato a dovere Tutti mi chiamano Dutch Sto cercando di capire cosa succede lassù E non è niente di buono Da quel poco che so i tuoi colleghi... Un momento Ok, fammi ricominciare Da quel poco che so i tuoi colleghi sono vivi per il momento Credo che li abbiano divisi Li hanno mandati in rami diversi della famiglia di Joseph Vuoi salvarti? Lo capisco Anch'io ho degli amici che voglio salvare Il problema è che non arriverà nessuno ad aiutarci Nessuno sa cosa stia succedendo qui E non si saprà finché non sarà troppo tardi Deve esserci della gente disposta a combattere contro la setta Dobbiamo solo mostrare come si fa Dobbiamo fondare una resistenza Quindi la prima cosa da fare è prendere il controllo di quest'isola Appena abbiamo un po' di gioco Possiamo capire la prossima mossa E in quella cassaforte ci sono un'arma e una mappa Prendi bene Ti chiamo in radio appena sarai pronto Attenzione Ci sono Edeniti ovunque Quei bastardi sono disposti a morire per quello psicopatico che li comanda Stammi a sentire Se vuoi mettere insieme una resistenza Ci sono alcune cose che devi sapere Ci sono quattro possibilità La prima Puoi liberare gli ostaggi catturati dalla setta Sono tutte brave persone disposte a combattere al tuo fianco Se le aiuti La seconda Puoi distruggere le proprietà delle Death's Gate che trovi dappertutto Cazzo Solo su quest'isola hanno costruito due altari di merda La terza Puoi partecipare alle missioni della resistenza Ci sono un sacco di persone che hanno conti da regolare con la setta E il tuo aiuto Gli farebbe comodo Per finire Se davvero hai voglia di combattere Puoi attaccare gli avamposti della setta in giro per la contea Liberarli Farà guadagnare terreno alla resistenza Permettendole di lanciare una controffensiva Ho telecamere in tutta l'isola Ti avviso se vedo qualcosa di utile Per ora va a sud E fa a pezzi tutto ciò che appartiene alla setta E dà una mano a chi ne ha bisogno, ok? Alleluia Grazie Grazie. 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 Tu, mi serve il tuo aiuto. Grazie, vince. Oh, cazzo. Ho appena visto la setta catturare un tizio ai moli. Aiutalo, e magari ricambierai il favore imbracciando un fucile. Questi fanatici sono fuori controllo. Se vuoi difenderti... Smettila, hai capito? Questi fanatici sono fuori controllo. Se vuoi difenderti, credo che ci sia la scorta di qualche prepper vicino alla rimessa per barche. Dovrebbe esserci qualcosa di utile lì dentro. Ehi, smettila, per favore. Ehi, smettila, non ti sono proprio preoccupato sopra l'uomo. Ehm... Ehm... Mh... Ehm... 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 Mh... Mele... Ehm... 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 del magazzino di un prepper se riesci a entrare lì dentro dovresti trovare un sacco di roba utile da un'occhiata tirami fuori di qui un sacco di roba utile ehi vice adesso che hai compagnia dovreste dirigervi insieme alla stazione di ricerca nella foresta è letteralmente infestata dalla setta che la usa come deposito per quel cazzo di gaudio fateli fuori e fate arrivare il messaggio che adesso facciamo sul serio ci è mancato poco facciamo il messaggio Grazie a tutti. Mi muovo, copritemi. E tenete in vista, state giù. Mi prendo di sorpresa. Cercherò di far piano. Mi muovo. Ne mi conterra. Eseguo. Ne ho preso uno. Un altro è venito in meno. Mi muovo, copritemi. E' venito in meno. Corri, destrunti! Correndo! Hai qualcosa? Qualu... Davvero? Grazie. Ottimo lavoro alla stazione di ricerca. Gli Edeniti non si faranno più vedere dopo che gli avete fatto il culo. Mentre ci siete, vedete se ci sono sopravvissuti. Ehi, hai un minuto? La setta si aggira intorno all'isola da settimane... Non fa ridere, abbassa l'arma! La setta si aggira intorno all'isola da settimane. Pare che vogliano stabilire una base operativa alla vecchia casa dei Ranger. Ehi, hai un minuto. Ehi, hai un minuto.